E da Fratelli d'Italia a Giorgia Meloni esulta per la vittoria del candidato nelle Marche e dice da Nord a Sud siamo l'unico partito che cresce. Virginia Lozito. Su Facebook la soddisfazione di Giorgia Meloni, Trionfo Marche, scrive Grazie a Francesco Acquaroli e Fratelli d'Italia un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centro-destra e rivendica da Nord a Sud Fratelli d'Italia l'unico partito che cresce in tutte le regioni. Riflessione che riguarda anche i rapporti nel centro-destra e con la Lega. Sul referendum interviene il capogruppo Lollo Brigida. Il taglio del numero dei parlamentari è nel programma del centro-destra. Lo abbiamo votato quattro volte in Parlamento e schierato il partito per il sì senza chiedere referendum. Inutili tentativi 5 Stelle di politicizzare la partita. Fratelli d'Italia è sempre stato sulla posizione del taglio dei parlamentari, coerentemente alla posizione del centro-destra. Ovviamente deve eseguire una legge elettorale che faccia tornare dalle segrete dei partiti ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Questo deve essere l'obiettivo immediato. E Rampelli rilancia ora riforme vere, sistema maggioritario, abolizione dei senatori a vita ed elezione diretta del capo dello Stato.